Che meraviglia, viene voglia proprio di andare alle terme. Allora, e noi però per l'argomento di cui dobbiamo parlare, rilassarsi non è molto facile. Perché? Dicevamo all'inizio, allora, un tumore alla prostata, diciamo che adesso ci sono delle, diciamo la chirurgia è molto avanzata, per cui anche gli effetti collaterali sono minimi, anche per altri tumori, però a volte invece le cose non funzionano proprio così. Quindi il problema resta, anche alcune ipotologie possono dare problemi sotto il profilo sessuale per gli uomini. Allora, secondo lei c'è abbastanza ascolto da parte dei medici per questo tipo di problema che investe però poi tutta la vita? Diciamo che ascolto da un punto di vista dei medici esiste sicuramente. Il problema è che l'urologo in questo caso, che si occupa dell'aspetto oncologico, è molto dedicato a prevenire una ripresa di malattia. Quindi molte volte trascura l'aspetto psicosessuale del paziente. Avendo a disposizione la possibilità di fare una prevenzione veramente precoce, gli uomini vengono operati a 50-55 anni. Quindi giovanissimi. Questi sono dei pazienti che vengono un pochino condannati a vivere dopo la patologia, perché hanno tutta una serie di aspetti di disfunzioni che possono determinare una depressione nel paziente. Allora, professore, esistono delle soluzioni per queste persone? Sicuramente esiste una soluzione. Esistono dei percorsi di riabilitazione sia farmacologici sia chirurgici. La cosa molto importante è che bisogna trovare una figura dedicata, come dicevamo, quindi un urologo che abbia delle competenze andrologiche, che possa seguire, creare un'empatia con il paziente e seguire il paziente nel suo percorso, che può essere un percorso o medico o chirurgico. E in questo caso, con questi percorsi, si risolve sicuramente il problema? Noi al 100% riusciamo a risolvere il problema. Sicuramente le nuove molecole che da circa 15 anni sono in commercio ci hanno dato una grossa mano. Ma anche l'utilizzo della chirurgia, in questo caso una chirurgia mini-invasiva, permette in 15-20 minuti di riportare l'uomo a una nuova vita sessuale. Senta, c'è però una nota dolente. Il Servizio Sanitario Nazionale passa questo tipo di interventi e questo tipo di terapie? Diciamo che le terapie farmacologiche sono riconosciute. C'è una nota del Servizio Sanitario Nazionale che permette ai pazienti di accedere gratuitamente a questi farmaci. Per quello che riguarda la chirurgia, siccome non c'è una grande diffusione di questo tipo di procedure, i costi ancora rimangono un pochino elevati. Rimangono elevati, però ci sono dei centri d'eccellenza che sono comunque convenzionati. Ci sono dei centri d'eccellenza in Italia, sono 5-6 centri di eccellenza che effettuano questo tipo di procedure. Noi, in modo particolare a Roma, effettuiamo una procedure mini-invasiva e siamo l'unico centro di riferimento in Europa per questo tipo di approccio chirurgico. Ecco, quanti sono più o meno gli uomini con questo tipo di problema, sommando tutti? Insomma, anche patologie che possono portare a questo tipo di disfunzione? Si stima che siano intorno ai 3 milioni gli uomini affetti da qualche forma di patologia correlata ai problemi sessuali in Italia attualmente. Grazie, grazie professore. Grazie.